Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Approvata all'unanimità dall'Aula la proposta di legge bipartisan sulla promozione delle attività di donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale, di prodotti alimentari, non alimentari e farmaceutici. Paolo Giovagnoni. La proposta di legge contro gli sprechi alimentari è scaturita da due distinte iniziative, una dei consiglieri di maggioranza Carla Casciari e Silvano Rometti, l'altra dell'esponente di opposizione Marco Squarta. Le finalità sono quelle di ridurre gli sprechi e la produzione di rifiuti secondo le normative nazionali ed europee vigenti e in conformità coi principi dell'economia circolare, quindi favorire il recupero e la donazione a fini di solidarietà sociale delle eccedenze alimentari, compresi i prodotti agricoli in campo, gli alimenti a fini medici speciali e gli alimenti senza glutine. Promuovere quindi l'insediamento dei centri di riuso, contribuire all'attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione sulle materie della legge. L'atto prevede la costituzione di reti operative promosse dai comuni in forma singola o associata, il cui compito sarà quello di raccogliere i prodotti alimentari e non ritirati o rimossi dalla distribuzione primaria ma ancora idonei al consumo, ma anche i pasti non consumati preparati dai servizi di ristorazione collettiva e i prodotti farmaceutici per distribuirli a fini di solidarietà sociale a favore delle persone che si trovano in situazioni di disagio. Faranno parte della rete oltre ai comuni soggetti della grande distribuzione organizzata, i servizi di ristorazione collettiva, gli organismi del terzo settore, associazioni di volontariato, enti caritatevoli, associazioni di categoria e operatori dei settori non alimentari. Tra le iniziative della regione, una giornata regionale contro gli sprechi alimentari, campagne di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e riduzione degli sprechi, la promozione di percorsi didattici presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado finalizzati alla sana alimentazione, alla produzione alimentare eco sostenibile, alla riduzione degli sprechi. Un ruolo importante previsto per l'autorità Umbra Rifiuti e Idrico, delegata a comporre le linee guida per i comuni per quanto riguarda la riduzione della tariffa sui rifiuti alle aziende che donano. Previsti anche criteri premiali per le imprese che garantiscono attività di recupero e donazione delle eccedenze alimentari ai soggetti donatari e per le amministrazioni locali che predispongono bandi specifici. La prima commissione ha incontrato a Palazzo Cesaroni i prefetti di Perugia e Terni per approfondire la tematica dei flussi migratori. David Mariotti Bianchi La prima commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria presieduta da Andrea Smacchi ha ascoltato in audizione i prefetti di Perugia Raffaele Cannizzaro e Terni Paolo Di Biagi per approfondire la tematica dei flussi migratori in Umbria. Dalla riunione emerso che nella nostra regione a fine ottobre 2017 sono presenti 3.143 profughi, di cui 2.272 nella provincia di Perugia e 871 in quella di Terni. 2.699 migranti provengono dagli sbarchi, di cui 2.032 accolti a Perugia e 667 a Terni e 444 sono quelli presenti in progetti Sprar, di cui 240 a Perugia e 204 a Terni. Per quanto riguarda la ripartizione sul territorio si continua a lavorare con il modello dell'ospitalità diffusa ed escludendo i comuni sotto i 1.000 abitanti e quelli colpiti dal terremoto dello scorso anno, i comuni coinvolti nell'accoglienza sono 32 a Perugia e 17 a Terni, con un indice di accoglienza di oltre il 50% e quindi molto superiore alla media nazionale che è del 40. Le strutture coinvolte nell'accoglienza sono 210 in provincia di Perugia e 101 in quella di Terni, principalmente appartamenti. Da luglio scorso c'è stata una profonda inversione di tendenza negli sbarchi, tanto che da agosto in Umbria sono arrivate solamente 50 migranti, di cui 38 a Perugia e 12 a Terni. Mediamente in ambito provinciale la presenza dei migranti non supera lo 0,35% della popolazione. Gli stranieri ospitati provengono principalmente dalla Nigeria, seguiti dal Gambia, Senegal, Mali, Guinea, Costa d'Avorio. La spesa per l'accoglienza prevista per il 2017 è di quasi 27 milioni di euro. Per quanto riguarda il numero di richiedenti asilo, da inizio 2015 le procedure in carico sono 5.165 e ne sono state trattate 3.573, di cui 2.540 rigettate. Quindi la percentuale di accoglienza delle richieste è del 20-25% che sale al 40-45 a seguito dei ricorsi. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato la strategia energetico ambientale regionale 2014-2020. Marco Paganini. Diminuzione dei consumi energetici complessivi, incremento delle fonti energetiche rinnovabili, miglioramento della governance regionale, sviluppo della filiera industriale e dei servizi connessi con l'energia. Sono questi gli obiettivi della strategia energetico ambientale regionale 2014-2020 predisposta dalla giunta di Palazzo Donini e approvata a maggioranza dall'Assemblea legislativa. Il relatore di maggioranza, Silvano Rometti, ha rimarcato che la direzione individuata dalla regione Umbria con la strategia è quella del doppio binario, da un lato incrementare, anche se in maniera più ridotta rispetto al passato, la produzione di energia da fonti rinnovabili, sia nella componente elettrica che in quella termica, dall'altro mettere in atto interventi di razionalizzazione e di riduzione dei consumi finali di energia. Per il relatore di minoranza, Andrea Liberati, non basta scrivere piani interessanti, servono azioni concrete, realistiche e fondi adeguati. La strategia proposta risulta datata in ritardo di tre anni. Inoltre non viene spiegato con quali risorse si procederà all'efficientamento degli edifici pubblici. Approvato a maggioranza dall'Aula di Palazzo Cesaroni l'atto di programmazione 2017-2018 in materia di sicurezza urbana. Astenuti i consiglieri di opposizione. Ce ne parla Tiziano Bertini. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato a maggioranza l'atto di programmazione per il triennio 2017-2018 in materia di sicurezza urbana, previsto dalla legge 13 del 2008. Hanno votato a favore i consiglieri di maggioranza, mentre si sono astenuti quelli di opposizione. Il programma 2017 prevede uno stanziamento di 175.000 euro, di cui 35.000 andanno al patto Perugia Sicura e 25.000 a patto Terni Sicura. I restanti 115.000 euro finanzieranno i progetti presentati dai comuni sulla sicurezza urbana. Si proseguirà nell'incentivazione della videosorveglianza delle zone industriali e si prevede anche la possibilità di finanziare progetti per le barriere antintrusione, per tutelare le città durante le manifestazioni che prevedono la partecipazione di molte persone. Il contributo regionale copre il 70% dell'intervento, mentre i comuni si faranno carico del restante 30%. I progetti possono arrivare al massimo ad un importo complessivo di 50.000 euro. Dal rapporto di ricerca su criminalità e sicurezza in Umbria negli ultimi sette anni, elaborato analizzando fonti ufficiali dall'Università degli Studi di Perugia, risulta che il picco più alto nella regione si è verificato nel 2013, con oltre 38.000 reati commessi, un dato poi calato a poco più di 31.000 nel 2016. In Umbria rimane comunque più alto rispetto alla media italiana il numero delle denunce per estorsione, usura e truffe informatiche. Audizioni al Comitato di monitoraggio e vigilanza dei presidenti dei collegi sindacali dell'azienda ospedaliere di Perugia e Terni e dell'azienda USL2 rispetto ai bilanci 2016. Vediamo. Il Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale, presieduto da Raffaele Nevi, ha ascoltato i presidenti dei collegi sindacali dell'azienda ospedaliere di Perugia e Terni, Domenico Ciaffardoni e Roberto Belli, oltre a quello dell'azienda USL2 Goffredo Maria Copparoni, in merito alle relazioni stilate sui bilanci 2016 delle tre strutture sanitarie. Tra le problematiche emerse rispetto all'azienda ospedaliere di Perugia, il mancato pagamento del ticket per le prestazioni sanitarie, la scarsa omogeneità nelle richieste di acquisto attraverso la centrale unica, la mancanza di un inventario fisico e contabile dei beni strumentali, le proroghe e il frazionamento dei contratti. Sono stati anche sottolineati i positivi risultati di bilancio degli ultimi tre anni. Economicamente, dal punto di vista finanziario, ha detto Ciaffardoni, è stata messa in atto una gestione equilibrata che ha consentito di coprire perdite relative agli anni precedenti, al 2006. Quella di Terni, ha detto il presidente del collegio sindacale Belli, è un'azienda in ordine, sia a livello finanziario che economico. I pagamenti ai fornitori vengono sostanzialmente effettuati nei 60 giorni previsti. Rispondendo poi ad alcune domande in merito all'ipotesi d'acquisto da parte dell'azienda di un immobile di proprietà dell'Ater, Belli ha evidenziato come ancora non ci sia un atto deliberativo. Goffredo Maria Copparoni, presidente del collegio sindacale dell'azienda USLE2, ha insistito sulle difficoltà derivate dalla fusione di due aziende sanitarie. Una criticità, ha spiegato, è rappresentata dal fatto che non c'è una rendicontazione ex-ante rispetto alla spesa farmaceutica, relativamente alla specificità di alcuni costosi medicinali antitumorali. Relativamente al sisma dello scorso anno, ci sono alcune sedie amministrative ancora chiuse, come quella di Foligno nel centro storico, e costrutture ospedaliere ancora fatiscenti. C'è poi, ha detto, un depauperamento, solo oggi affrontato dalla regione, relativamente al reintegro dell'area amministrativa contabile. Copparoni ha rimarcato poi l'equilibrio di bilancio di tutto il triennio, definendo positivi anche i tempi di pagamento dei fornitori, che sono di circa 30 giorni. La Commissione Consiliare di Inchiesta su Umbria Mobilità, preseduta da Carla Casciari, ha ascoltato l'ex presidente del Consiglio di Amministrazione negli anni dal 2012 al 2016, Lucio Caporizzi. Ce ne parla Paolo Giovagnoni. Prosegue l'attività della Commissione di Inchiesta Gestione delle imprese della mobilità pubblica partecipate dalla regione Umbria, presieduta da Carla Casciari, dopo l'audizione dell'amministratore unico di Umbria Mobilità, Ferruccio Bufaloni, è stato ascoltato Lucio Caporizzi, dirigente della regione che è stato al vertice dell'azienda trasportistica dal 2012 fino al corrente anno. Il dirigente ha riferito delle criticità incontrate, l'impegno finanziario con Roma TPL, che ha assorbito risorse per 50 milioni di euro, relativi a costi sostenuti e non rientrati per i servizi resi. Quindi lo squilibrio creato dall'inadeguatezza del corrispettivo, vale a dire la contribuzione pubblica che viene erogata a un'azienda di trasporto pubblico locale come integrazione dei ricavi da traffico. E la terza criticità derivata dalle conseguenze del processo di fusione tra le quattro società di trasporto Umbria, che avevano situazioni differenti da un punto di vista finanziario. L'obiettivo è stato dunque quello di ridurre le perdite. Nel 2013 sono stati subito dismessi servizi su Roma. È iniziato il recupero dei crediti, a ora circa 12 milioni. Nel 2014 il passaggio a Busitalia, con cui è stata realizzata una plusvalenza sullo stato patrimoniale di 28 milioni. La situazione debitoria complessiva, da oltre 383 milioni del 2012, fra banche, soci e fornitori, a fine 2016 era stata ridotta a 115. La commissione d'inchiesta, presieduta da Carla Cacciari, proseguirà gli approfondimenti con l'audizione dell'assessore regionale ai trasporti, Giuseppe Chianella. Audizione in terza commissione dei vertici nazionali del canotaggio del circolo Canuttieri di Piediluco. Il confronto era stato chiesto da Raffaele Nevi di Forza Italia, preoccupato da alcune dichiarazioni sulla stampa del direttore tecnico della federazione, che lamentava mancanza di serenità a causa di alcuni esposti di cittadini. I consiglieri presenti hanno rimarcato l'importanza di mettere in atto ogni sforzo affinché la nazionale italiana di canottaggio possa continuare a mantenere a Piediluco la sede per la preparazione olimpica, programmando a breve una ulteriore audizione con i tecnici competenti in materia della regione e del comune di Terni. Chiusura del ciclo dei rifiuti, obiettivi della raccolta differenziata e modernizzazione degli impianti di trattamento sono stati al centro dei lavori della seconda commissione. Marco Paganini. La seconda commissione di Palazzo Cesaroni ha svolto un ulteriore approfondimento sulla riorganizzazione dei servizi di raccolta domiciliare, sulla situazione impiantistica regionale di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, ascoltando l'ufficio di direzione dell'autorità regionale e l'assessore Fernanda Cecchini. Aprendo i lavori della commissione, Eros Brega ha sottolineato le criticità del sistema regionale di gestione e trattamento dei rifiuti, tra questi la capienza residua delle discariche regionali, l'efficienza reale degli impianti di differenziazione dei rifiuti, il rispetto delle percentuali di riciclo previste dalla normativa, le origini delle attuali difficoltà nell'individuazione del sistema di chiusura del ciclo, le tempistiche per la produzione del CSS e per la revisione del piano rifiuti. Dai report presentati da Rossi e Cecchini è emerso che non è in programma un aggiornamento del piano regionale dei rifiuti, ciò potrà avere luogo solo se questa esigenza emergerà dal piano di ambito unico regionale previsto per la fine del 2018. Dopo l'approvazione del piano potrà essere individuato il gestore unico regionale dei rifiuti che dovrà puntare sull'innalzamento dei livelli qualitativi e quantitativi della raccolta differenziata sulla modernizzazione degli impianti e sulla produzione di combustibile solido secondario per la chiusura del ciclo. È tutto per questa edizione, vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria e anche disponibili in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito, l'appuntamento è la prossima settimana, arrivederci. Grazie per aver guardato il video.